Il giro che abbiamo appena realizzato sarà il primo giro dei cinque giri che bisogna andare a realizzare ogni volta per costruire la nostra treccia. Quindi ora andremo a fare il secondo, il terzo e il quarto giro, secondo, terzo, quarto e quinto giro, tutti nello stesso modo. Dopodiché ripartiremo dal primo che è il giro dell'incrocio. Quindi andiamo a realizzare il nostro secondo giro per realizzare la nostra treccia. Io ho finito il giro, con l'incrocio vado a chiudermi con una maglia, no mi manca una maglia alta e vado a chiudermi con una maglia bassissima nella catenella di partenza, in questo modo. Dopodiché realizzo una catenella e vado a realizzare la mia maglia alta all'interno proprio della prima maglia, proprio quella del giro sottostante, quella subito dopo la chiusura. Adesso lavoro le mie maglie alte che sono, ricontiamole, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici maglie alte prima di arrivare alla treccia. E ci vediamo quando sono in prossimità della treccia. Arrivate in prossimità della nostra treccia, carichiamo sul filo per fare una maglia alta e andiamo a fare una maglia alta in rilievo sulle due maglie alte in rilievo che abbiamo sotto. Queste sono quelle sopra, se voi spostate sotto avete le due maglie alte in rilievo che arrivano dalla nostra sinistra. Quindi andiamo a prendere la prima maglia alta e la lavoriamo in rilievo, uno, andiamo a prendere la seconda, spostate quelle che avete davanti così vedete bene quelle che avete sotto, la seconda e lavoriamo la nostra maglia alta in rilievo. Ora andiamo a lavorare le nostre tre maglie alte normalmente, quelle che abbiamo dietro, quindi spostiamo un po' il nostro lavoro, andiamo a prendere la primissima delle nostre maglie alte che è sicuramente nascosta, ce l'avete qua. Quindi spostate le maglie alte in rilievo che avete appena fatto e andate a prendere la primissima maglia alta e lavorate normalmente. Una maglia alta normale, una, due e una, tre. A questo punto dovete lavorare le due maglie alte che vi trovate a questa altezza, quindi caricate sul filo e le lavorate sempre in costa, quindi sempre per fare il rilievo, una e anche l'altra, quindi caricate sul filo, passate dietro la maglia in questo modo e poi la lavorate normalmente. Dopodiché lavoriamo le nostre maglie alte che ci separano dalla treccia successiva. Ricordatevi anche qua di andare a lavorare sempre anche la prima e non saltarla. Se sotto sono 5 devono essere 5 anche sopra, se sotto sono 7 devono essere 7 anche sopra, insomma dovete sempre mantenere la stessa quantità di maglie alte che avete realizzato. 4 e nel mio caso sono 5, quindi vado a lavorare la quinta. Ora ci ritroviamo di nuovo sulla treccia, facciamo la stessa cosa, spostiamo le due maglie a rilievo che abbiamo davanti e andiamo a prendere la prima delle due che abbiamo dietro e la lavoriamo a rilievo. Una, spostiamo sempre le nostre due davanti e andiamo a prendere quella che abbiamo dietro a rilievo. Ora magari nel video non si vede perfettamente il rilievo ma vi assicuro che quando lo avrete in mano lo vedete perfettamente. Poi caricate sul filo e andiamo a lavorare le tre maglie alte che abbiamo dietro normalmente, quindi entrando nell'asolina normale della maglia alta. Cercate sempre la maglia alta giusta e andate a lavorarla. 1, 2 e 1, 3. Dopodiché andate a lavorare in rilievo le altre due maglie alte, quindi prendete la prima in costa davanti così e la lavorate e poi prendete anche l'altra in costa e la lavorate. Ora andate a lavorare le vostre maglie alte come vi si presentano, quindi quelle che vi separano da una treccia all'altra. 1, 2, 3, 4 e una cinque. E di nuovo spostate le due maglie alte che avete davanti, andate a vedere quelle che avete dietro e lavorate la prima in costa e anche la seconda in costa, in questo modo. Ora lavorate le tre maglie alte che avete dietro, quindi spostate quelle che avete appena fatto, andate a prendere la prima maglia alta e la lavorate normalmente nell'asolina. 1, 2 e 3. E ora andiamo a lavorare le ultime due maglie a rilievo, quindi carico sul filo e lavoro le nostre due maglie alte sempre a rilievo, quindi prendendo la maglia in costa. 1 e 1, 2. In questo modo. E ora ricominciamo a lavorare tutte le nostre maglie alte, stando sempre attente, ve lo dico fino allo sfinimento, a prendere anche la prima maglia alta, perché se no andate a stringere il lavoro, e le lavoriamo tutte normalmente fino alla chiusura. Andiamo a chiudere il nostro lavoro come vi ho fatto vedere fino adesso e poi andiamo a lavorare le nostre maglie alte fino a raggiungere l'inizio della nostra treccia. Quindi nel mio caso io, dopo aver chiuso il lavoro, vado a lavorare le mie 11 maglie alte e ci vediamo a quel punto. Io ho lavorato le mie 11 maglie alte prima di arrivare alla treccia e adesso vado a fare il terzo giro per realizzare la nostra treccia. Il terzo giro è semplicissimo perché avete già tutto pronto e tutto in vista. Quindi andiamo a lavorare le prime due maglie che avete a rilievo, normalmente a rilievo. Quindi carico sul filo, prendo la mia maglia sempre per lavorarla in costa avanti e lavoro la mia maglia. Vado a prendere la successiva e la lavoro sempre in costa avanti per creare sempre il mio rilievo. E ho fatto le prime due. Ora vado a lavorare normalmente le mie tre maglie alte sotto che in questo giro riuscirete a vederle meglio. Quindi vedete che se io sposto appena appena becco subito il buchino. Quindi andate a lavorare la prima, la seconda e la terza. Dopodiché avete le altre due maglie a rilievo e andate a lavorare normalmente due maglie a rilievo. Una e una due. Adesso andiamo a lavorare le nostre maglie alte come si presentano fino ad arrivare all'altra nostra treccia. Quattro e cinque Siamo arrivati alla treccia successiva andiamo a fare lo stesso lavoro. Quindi abbiamo le due maglie a rilievo andiamo a lavorare altre due maglie a rilievo proprio sopra. Una Prendiamo la seconda e la lavoriamo anche questa a rilievo. Così. Poi andiamo a lavorare le nostre tre maglie alte all'interno normalmente. Quindi una due e tre e ora lavoriamo le nostre due maglie a rilievo quindi una e una due. Ora lavoriamo le nostre maglie che ci separano dalla treccia successiva due tre quattro cinque e siamo arrivati alla treccia successiva rifacciamo anche questa insieme quindi dove abbiamo le due maglie a rilievo lavoriamo due maglie a rilievo una e una due dopodiché andiamo a lavorare le tre maglie alte che abbiamo dietro state sempre ben attenti a prendere la prima maglia alta che tendenzialmente si nasconde dietro le due maglie a rilievo quindi due e una tre e ora lavoriamo le due maglie a rilievo un'altra volta così e ora ripartiamo a lavorare le nostre maglie alte fino ad arrivare alla chiusura perché le trecce le abbiamo finite quindi arriviamo alla chiusura chiudiamo lavoriamo nuovamente le nostre maglie fino all'inizio della treccia e ci vediamo di nuovo qui ho realizzato le maglie alte per il mio quarto giro e ora anche questo giro andiamo a farlo nello stesso identico modo quindi dove ho le due maglie alte a rilievo vado a lavorare due maglie alte a rilievo una e una due dopodiché vado a lavorare tre maglie alte normali una due tre e ora andiamo a lavorare le altre due maglie a rilievo quindi una e una due ora andiamo a lavorare le nostre maglie alte normalmente quelle che ci separano dalla treccia successiva due e siamo arrivati alla treccia successiva la treccia successiva facciamo la stessa cosa quindi le prime due che si presentano sono maglie alte a rilievo andiamo a lavorare due maglie alte a rilievo una e una due dopo di che tre maglie alte normalissime una due tre e poi e poi di nuovo due maglie alte a rilievo una e una due ora lavoriamo le nostre maglie alte che ci separano dalla treccia successiva 1 2 3 4 5 e lavoriamo l'ultima treccia sempre nello stesso modo quindi abbiamo le due maglie a rilievo andiamo a lavorare le nostre due maglie a rilievo una e una due dopodiché abbiamo le tre maglie alte normali da lavorare quindi lavoriamo queste tre una due e una tre dopodiché abbiamo di nuovo le due maglie a rilievo e andiamo a lavorarle sempre a rilievo una e due e ora lavoriamo le nostre maglie alte fino ad arrivare alla fine del giro io poi chiudo il giro lavoro di nuovo le mie 11 maglie alte fino ad arrivare alla treccia e arrivata la treccia lavoriamo insieme il quinto giro che è l'ultimo del modulo da 5 quindi ci vediamo davanti proprio di fianco alla nostra treccia da lavorare andiamo ad eseguire l'ultimo giro che è il quinto giro del nostro modulo per realizzare la treccia ed è esattamente uguale ai tre precedenti quindi carico sul filo e vado a lavorare una maglia alta a rilievo sulla maglia a rilievo sottostante una poi vado a lavorare una seconda maglia alta a rilievo dentro quella del giro sottostante poi abbiamo le tre maglie alte una da lavorare normalmente due tre e di nuovo le due maglie alte a rilievo quindi una e due ora lavoriamo le maglie che ci separano dalla treccia successiva uno due tre quattro e uno cinque e ora andiamo a lavorare lunguamente nello stesso modo la nostra treccia quindi le due maglie alte a rilievo sopra le due maglie alte a rilievo del giro sottostante una e due le tre maglie alte normali tra quelle a rilievo state sempre attenti a prendere le tre maglie alte giuste due e una tre e di nuovo le due maglie alte a rilievo sulle maglie alte a rilievo del giro sottostante una e una due e questo è il quinto giro per formare la nostra treccia ora io vado avanti a finire la mia treccia e faccio tutto il mio giro di maglie alte e arrivo alla chiusura ci vediamo alla chiusura per andare a realizzare il primo dei cinque giri che è quello con l'incrocio realizziamo nuovamente insieme questo perché è quello leggermente più complesso dopodiché gli altri quattro giri avete visto che sono sempre uguali l'importante è che andate a ripeterli quindi ci vediamo alla chiusura di questo giro io ho lavorato nuovamente le mie maglie alte fino ad arrivare alla alla treccia e adesso andiamo a realizzare insieme il primo giro quindi quello un pochino più complesso carichiamo sul filo due volte saltiamo le prime due maglie a rilievo saltiamo le tre maglie alte normali andiamo a prendere la prima maglia a rilievo che ci si presenta dopo le tre maglie alte carichiamo sul filo usciamo e chiudiamo con una doppia maglia alta così ora carichiamo nuovamente due volte il filo andiamo a prendere la seconda maglia alta a rilievo la lavoriamo sempre a rilievo e scarichiamo i nostri fili per realizzare una doppia maglia alta eccola qua ora carichiamo sul filo una volta e dobbiamo andare a lavorare le nostre tre maglie alte quindi carichiamo il filo andiamo a lavorare spostiamo il nostro lavoro dietro così è più facile vedere dove dobbiamo lavorare perché se voi tirate in fuori vedete che qui avete le due maglie alte a rilievo e andate a lavorare la prima maglia alta subito dopo le due maglie alte a rilievo quindi una maglia alta due maglie alte e tre maglie alte abbiamo realizzato le nostre tre maglie alte ora carico su di nuovo il filo due volte vado a prendere la prima quindi quella più esterna la maglia alta più esterna e vado a lavorarla eccola qua vado a lavorarla in rilievo per realizzare una doppia maglia alta quindi una due e una tre carico di nuovo sul filo due volte vado a prendere la maglia alta la seconda quella un pochino più all'interno la lavoro sempre aspettate carico sul filo due volte la lavoro sempre a rilievo quindi entro da qua passo sotto esco dall'altra parte e poi lavoro una doppia maglia alta anche in questo caso così e abbiamo realizzato il nostro passaggio ora carichiamo sul filo andiamo a lavorare le nostre maglie alte che ci separano dalla treccia successiva e le lavoriamo normalmente quando lavorate il primo giro le prime due volte vi sembrerà complicato in realtà quando andate a farlo la terza volta di complicato vedrete che non ha più niente vi verrà meccanico perché è solo è semplicissimo è solo proprio questione di manualità siamo arrivati alla nostra treccia io carico sul filo due volte salto le prime due maglie a rilievo salto le tre maglie alte normali e vado a prendere la prima delle due maglie alte a rilievo successive e lavoro la mia doppia maglia alta due e uno tre carico di nuovo sul filo due volte vado a prendere la maglia alta a rilievo successiva e lavoro la mia doppia maglia alta ora nuovamente carico sul filo devo andare a prendere la prima delle mie tre maglie alte che è questa vedete una due tre vado a prendere questa prima di quelle due a rilievo quindi passo dietro e vado a infilarmi una volta che avete infilato la prima poi riuscite a tenerlo con le mani e le altre due le trovate subito quindi una due e una tre lavorate le tre maglie alte normalmente carico di nuovo sul filo due volte e torno a lavorare le prime due maglie alte e vado a lavorare subito la prima delle due maglie alte a rilievo quindi carico sul filo entro in questo modo e lavoro la mia doppia maglia alta a rilievo una carico di nuovo il filo su due volte sposto il lavoro perché la mia seconda maglia alta a rilievo viene nascosta vedete io se tiro la tiro fuori entro sempre a rilievo e vado a lavorare la mia doppia maglia alta anche qua così ora cammino con le mie maglie alte fino ad arrivare alla treccia successiva uno due tre quattro cinque lavoriamo anche un'altra treccia insieme quindi carico sul filo due volte salto le prime due maglie alte a rilievo salto le tre maglie alte centrali vado a lavorare a rilievo la prima delle due maglie alte a rilievo successive e lavoro una doppia maglia alta una carico di nuovo il filo su due volte vado a lavorare la maglia a rilievo successiva sempre ovviamente a rilievo due così ora carico il filo vado dietro e vado a lavorare la prima delle mie tre maglie alte normali eccola qua una per comodità lavorate sempre dietro quando dovete fare queste tre perché le vedete le vedete molto più facilmente due e una tre eccola qua dopo di che caricate sul filo due volte tornate sul davanti e andate a lavorare a rilievo la prima maglia alta a rilievo che avete eccola qui e la lavorate con una doppia maglia alta anche questa ovviamente a rilievo caricate di nuovo sul filo spostate la maglia che avete fatto e andate a prendere la maglia alta a rilievo successiva e la lavorate a rilievo anche questa facendo la nostra doppia maglia alta e abbiamo fatto il nostro giro il nostro primo giro del modulo ora io lavoro tutto questo giro ci vediamo sulla prima treccia che ci si presenta vi faccio vedere l'inizio del secondo giro poi ricordatevi sempre che il secondo il terzo il quarto e il quinto giro sono identiche quindi ci vediamo qui sono arrivata alla mia treccia io ora carico sul filo e andiamo a realizzare il secondo giro quindi sposto le due trecce le due maglie doppie maglie alte lavorate in costa che ho davanti e vado a lavorare una maglia in costa nella prima che mi ritrovo dietro quindi una qui carico di nuovo sul filo sposto sempre le due le due maglie che ho davanti vado a prendere la seconda a rilievo e lavoro la seconda maglia in costa così ora carico sul filo sposto il lavoro e vado a lavorare le mie tre maglie alte che ho dietro andando a prendere mi raccomando ricordatevi anche la prima delle trecce si nasconde in questo giro quindi prendete la prima e la lavorate normalmente prendete la seconda e la lavorate normalmente prendete la terza e la lavorate normalmente arrivate a questo punto caricate sul filo e andate a lavorare due maglie alte a rilievo sulle due maglie alte a rilievo che vi si presentano quindi una qua sulla prima che vi si presenta e una sulla seconda dopodiché andate ricominciate a lavorare le vostre maglie alte fino a raggiungere la treccia successiva e in questo modo andate a lavorare il secondo il terzo il quarto e il quinto giro e poi si riparte si riparte dal giro precedente che è quello che abbiamo realizzato prima insieme che è l'incrocio si va avanti così a oltranza questo è questo è il risultato l'effetto della lavorazione che stiamo ottenendo si va avanti a lavorare così nello stesso modo finché la nostra maglia non arriva al sottomanica proprio dove c'è lo scalfomanica dopodiché ci ritroviamo per cambiare la lavorazione perché a quel punto bisognerà lavorare in maniera differente quindi ora proseguiamo tutte fino al sottomanica e ci vediamo lì ora io vi allego una foto del maglione grande da uomo che è quello che ho portato avanti dove io già sono arrivata al sottomanica vi faccio una foto del maglione posizionato sopra un maglione già esistente in modo da farvi vedere proprio dove vi dovete fermare ci vediamo a quel punto io ho lavorato la mia maglia fino a raggiungere lo scalfomanica ovviamente la maglia che ho preso a modello non è questa maglietta maniche corte ma siccome non la maglia che ho preso a modello è scura e nel video non riesco a farvela vedere vi ho messo sotto una maglia rossa in modo che sia più evidente e la cucitura è quello che andrò a fare da adesso in poi allora se anche voi siete arrivate allo scalfomanica e vi faccio vedere vuol dire essere arrivate proprio dove c'è la cucitura e poi viene attaccata la maglia nelle maglie normali se siete arrivate anche voi a questo punto adesso siamo al punto di dover dividere il davanti dal dietro quindi io vado a prendere i miei marca punti e vado a staccarli perché qui sotto non ci servono più io li ho tenuti qua per comodità ma a questo punto non servono più ora dobbiamo andare a stabilire qual è la metà davanti e qual è la metà di dietro del nostro maglione quindi siccome io in questo maglione piccolo ero partita con 92 catenelle mentre nel maglione grande ero partita con 140 ho stabilito che per il mio maglione grande le catenelle le maglie del dietro e le maglie del davanti erano 70 davanti e 70 dietro in questo maglioncino che invece ha 92 maglie io so che 45 maglie sono il mio davanti e 45 maglie sono il mio di dietro so anche che una treccia è composta da 7 maglie 2 3 e altre 2 quindi vado nella treccia centrale in questo caso mentre nell'altro maglione dove ho fatto le 4 trecce non ho preso la treccia centrale come punto di riferimento ma ho contato allora facciamo che queste siano le 2 maglie centrali della mia maglia a 4 trecce eccole qua ok io ho 2 trecce 2 trecce quindi ho queste qua queste sono quelle centrali io sono andata a trovare il centro delle mie maglie a questa altezza in ogni caso voi dovete stabilire qual è il centro delle trecce nel mio caso il centro delle trecce è questa treccia io vado a puntare il mio marca punti al centro della mia treccia e so che questa è la metà il centro esatto del mio davanti ora so che il mio davanti è 41 maglie 45 46 maglie 46 46 92 sì ok quindi è 46 maglie devo dividere le 46 maglie per 2 perché metà sono di qua e metà sono di qua quindi io dovrò avere 23 maglie a sinistra e 23 maglie a destra per delimitare il mio il mio davanti allora vado a contarle escludo quella centrale quella centrale me la tengo in più quindi sono 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 e 23 nella 24esima io vado a mettere un marca punti stessa cosa vado a fare dall'altra parte una volta trovato il mio centro io vado a contare 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 e 23 e vado a mettere il mio marca punti in questo modo ho delimitato il mio davanti questo sarà il mio davanti da un marca punti all'altro ora il marca punti qui non serve più quindi io vado a toglierlo se avessi avuto queste due trecce e il centro fosse stato qua perché avessi avuto due trecce di qua o due trecce di qua avrei cercato il centro nelle mie maglie alte e avrei puntato il mio marca punti nelle mie maglie alte dopodiché avrei ripetuto lo stesso lo stesso calcolo quindi una volta che voi avete e vi ricordate con quante catenelle siete partite siccome non abbiamo fatto aumenti avete le stesse catenelle dividete la metà dividete in due la quantità di catenelle che avete realizzato la metà che vi risulta è il vostro davanti e andate a ricavarvi il vostro davanti mi raccomando che le stesse maglie alte che avete di qua devono essere di qua perché se no vi balla il lavoro una volta stabilito questo ora noi andremo a lavorare un'ultima treccia un'ultima treccia solo sul davanti dopodiché andremo avanti con le maglie alte quindi per fare l'ultima treccia mentre ora lavorando in tondo la treccia era molto semplice da realizzare per questo disegno le cose cambieranno un pochino semplicemente perché ci troveremo a fare dei giri sul rovescio del nostro lavoro però ormai avete fatto talmente tante trecce fino adesso che non c'è difficoltà sicuramente a lavorare in questo modo quindi andiamo sul nostro marca punti e camminiamo con delle maglie scusatemi andiamo sulla nostra catenella di partenza e camminiamo con delle maglie bassissime fino ad arrivare al nostro marca punti in questo modo uno se vi doveste per caso trovare con la catenella d'inizio molto distante dal marca punti è inutile camminare con le maglie con le maglie bassissime staccate il filo chiudete e partite direttamente a lavorare la vostra maglia dal marca punti quindi rinfilate il filo vi alzate con due catenelle e iniziate da qua non fate una marea di di maglie bassissime se invece ne avete due o tre come me allora si può fare tanto poi andranno a sparire con la manica arrivate nel marca punti realizziamo una maglia bassissima dopodiché ci alziamo con due catenelle una e due e sono la nostra prima maglia alta ora io tolgo il marca punti semplicemente perché mi dà fastidio e poi adesso so dove dove devo lavorare mi raccomando controllate avete dal dal marca punti al vostro al giro alla partenza io ho lavorato ho eliminato quattro maglie una due tre quattro ricordatevi questo numero oppure se vi viene più comodo facciamolo subito andiamo a togliere quattro maglie anche da dietro quindi una due tre quattro e andiamo a mettere il nostro marca punti qui così abbiamo già il delimitato poi dove dovremo partire per il dietro e abbiamo già preparato lo scalfo manica quindi a questo punto lavoriamo con le nostre maglie alte fino ad arrivare dove abbiamo la treccia altra cosa bisogna arrivare a questo punto con il disegno della treccia con i cinque giri finiti quindi l'incrocio i cinque i quattro giri lavorati normalmente in modo che da adesso in poi andiamo insieme ad incrociarci se per caso per le vostre misure vi mancasse un giro realizzatelo tanto non è quel centimetro in più o in meno di una maglia che va a fare la differenza ma è proprio per comodità perché visto che è la prima volta che lavorate da adesso in poi lavorate in maniera diversa possiamo lavorare tutte nello stesso modo se no potrebbe diventare per qualcuno difficile questo è un consiglio poi invece se riuscite a guardare riuscite a capire qual è il meccanismo per lavorare la treccia potete poi veramente farla come come vi pare anche perché è molto semplice quello che andremo a fare quindi potete anche guardare tranquillamente il tutorial e poi lavorare come come preferite quindi ora andiamo a fare il primo passaggio quello dell'incrocio quindi due carichiamo il filo due volte andiamo a lavorare nella terza una due tre terza maglia alta a rilievo e lavoriamo la nostra doppia maglia alta uno due ora andiamo a lavorare le nostre tre maglie alte da dietro come abbiamo fatto questo giro è uguale a quelli che abbiamo fatto e realizzato fino adesso quindi non cambia niente infatti io vi faccio vedere solo questa treccia e poi continuiamo da sole quindi lavoriamo le nostre tre maglie alte una due tre dopodiché carichiamo di nuovo due volte il nostro filo andiamo a lavorare le prime due maglie a rilievo davanti quelle all'inizio quelle di partenza insomma una altra doppia maglia alta lavorata sempre sul rilievo e due e poi andiamo a lavorare le nostre maglie alte normalmente quando ci ritroviamo sulla nostra treccia lavoriamo nuovamente l'intreccio questo potete tranquillamente farlo da sole quindi io proseguo il mio voi proseguite il vostro e ci vediamo alla chiusura del giro no non alla chiusura del giro ci vediamo prima di raggiungere il nostro marca punti perché non chiudiamo il giro arriviamo al marca punti finito il nostro giro arrivati al marca punti noi dobbiamo andare a fare a lavorare il nostro giro tornando indietro ma in più dobbiamo andare a fare una sorta di piccola diminuzione di piccolo scalfo manica per poter arrotondare e non fare proprio un maglione diritto diritto quindi non vi faccio fare calcoli e scalfi esagerati andiamo semplicemente a fare un giro un piccolo giro di diminuzioni solo solo uno o due se vi sembra che ci sia bisogno di farne due ma non fatene tanti perché sennò dovreste veramente fare poi tutti i calcoli per la manica ed essendo un maglione che vuole essere facile e ha la portata un po' di tutte direi di non farlo ovviamente chi è in grado di farlo può andare tranquillamente da sola io per chi vuole seguire il tutorial e per chi vuole fare un maglione da uomo ma stando su un livello medio basso di difficoltà vado a realizzare una diminuzione adesso una diminuzione nel prossimo giro poi basta poi proseguo diritta fino ad arrivare all'altezza del mio collo poi qui si andremo a fare qualche piccola diminuzione ma siccome già dobbiamo farle qua evitiamo di farle anche sulle maniche quindi arrivata la fine del giro io realizzo una catenella volto il mio lavoro e ora devo tornare indietro per fare una diminuzione io non vado a fare ho realizzato una catenella invece di due e questo mi basta vado a lavorare una maglia alta nella maglia alta successiva in questo modo e io ho già realizzato la mia diminuzione dopodiché lavoriamo le nostre maglie alte fino ad arrivare alla nostra treccia ma non dobbiamo arrivare dove c'è questo nodino dobbiamo arrivare dove abbiamo le due maglie alte a rilievo quindi se spostate l'intreccio vedete che sotto avete le due maglie alte a rilievo noi dobbiamo arrivare qui quindi lavoriamo le nostre maglie alte fino ad arrivare alle nostre prime due maglie alte a rilievo vediamo sono arrivata ok allora a questo punto io devo lavorare la mia maglia a rilievo ma non posso lavorarla dal davanti perché sono sul rovescio quindi devo lavorarla da dietro cosa faccio vado ad individuare dov'è la mia maglia alta a rilievo la mia treccia ed è qua quindi ho ancora una maglia alta che mi è scappata eccola qua poi vado a prendere la mia treccia a rilievo e la vedete è facile scusate era uscita fuori camera eccola qua e vado a lavorare la mia maglia coste però sul sul retro del lavoro quindi vado a prendere la prima maglia in questo modo carico sul filo giro il mio lavoro e vado a inserirmi così carico sul filo esco e lavoro la mia maglia alta carico di nuovo sul filo vado a prendere la seconda a rilievo carico sul filo e lavoro la mia maglia alta se girate il lavoro vedete che avete lavorato sempre sul rilievo ma davanti ora lavoriamo le nostre tre maglie alte che questa volta avete perfettamente davanti quindi abbiamo eliminato la difficoltà di cercare le maglie alte perché sono una due e una tre ok e poi andate a lavorare nuovamente le due maglie alte a rilievo ma per trovarle questa volta dovete spostare quelle che avete sopra e andare a prendere quelle che avete proprio sotto nascoste eccole qua una e due lavorate prima la più interna in questo modo e poi andate a lavorare la più esterna eccola eccola qua ora riprendete a lavorare le vostre maglie alte normalmente fino ad arrivare alla treccia successiva qui è facile perché ah ecco se voi contate le vostre maglie alte diventa più facile qua io ne ho 5 da dover realizzare quindi vado a fare la quarta e vado a lavorare la mia quinta ora di nuovo carico sul filo e vado a lavorare la mia maglia alta a rilievo la prima quella più esterna in questo modo carico di nuovo sul filo e vado a lavorare la seglia alta a rilievo poi lavoro le mie tre maglie alte che ho sul retro e che sono molto più comode da vedere una due e una tre e poi vado a lavorare le altre due maglie che ho a rilievo quindi carico sul filo giro il mio lavoro sposto le due maglie alte che ho davanti e vado a prendere quelle che ho nascoste dietro è più facile fare che spiegare in questo caso una e vado a prendere la seconda due poi lavoro nuovamente le mie cinque maglie alte una due tre quattro cinque e poi carico su nuovamente il filo vado a lavorare le prime due maglie alte della mia treccia in rilievo andando a prendere sempre da dietro quindi un'altra ok poi lavoro normalmente le mie tre maglie alte una due e una tre e poi vado a lavorare le mie due maglie alte a rilievo quindi sposto nuovamente le maglie alte che ho sopra e vado a lavorare le due che sono nascoste ora vado a lavorare le mie maglie alte fino alla penultima del giro quindi una due tre quattro cinque sei e una sette l'ottava la salto quindi l'ultima non vado a lavorarla catenella volto il mio lavoro e vado a fare l'ultima diminuzione quindi ho realizzato una catenella sola mi sposto nella maglia alta successiva e vado a lavorare tutto insieme e ho fatto la mia seconda diminuzione vedete che si è arrotondato un pochino dopodiché lavoro le maglie alte fino ad arrivare alla treccia e questo giro è assolutamente facile perché è uguale ai giri che avete sempre lavorato quindi adesso andiamo a lavorare le due maglie a rilievo le tre maglie alte e poi le due maglie a rilievo due quattro sei questa non c'entra niente perché è quella del rilievo ok avete il vostro rilievo caricate sul filo e lavorate normalmente la vostra treccia come avete sempre fatto questo sarebbe il terzo giro giusto? sì il terzo giro lavorate il vostro terzo giro normalmente quindi tre maglie alte tre e di nuovo le due maglie alte a rilievo come abbiamo fatto dall'inizio del lavoro fino adesso ora io proseguo fino alla fine del giro mi fermo un pochino prima della fine del giro per farvi vedere l'ultima diminuzione arrivata alla fine del giro vado a lavorare l'ultima maglia sull'ultima maglia alta ma non vado a lavorare la catenella ora io diminuzioni non ne faccio più voi se avete bisogno potete andare avanti con lo stesso modo quindi fate un'altra catenella vi spostate nella maglia alta successiva e andate avanti però non esagerate perché poi diventa troppo grande lo scalfo manica quindi ora due catenelle volto il lavoro andiamo a fare la lavorazione sul retro quindi lavoriamo maglie alte fino ad arrivare alla nostra alla nostra treccia io so che qui ho sei maglie alte adesso quindi tre quattro cinque e uno sei ora dobbiamo lavorare i nostri rilievi però ora sono molto più evidenti ed è molto più facile quindi carichiamo sul filo e andiamo a lavorare sul retro quindi ci spostiamo prendiamo la prima maglia a rilievo questa volta è il retro e la lavoriamo in questo modo ci spostiamo e facciamo la stessa cosa con la seconda maglia alta a rilievo quindi andiamo sul retro carichiamo sul filo e la lavoriamo a rilievo ora lavoriamo le nostre tre maglie alte quindi una due e una tre e ora andiamo a fare le ultime due a rilievo quindi carichiamo sul filo andiamo dietro lavoriamo la prima a rilievo in costa retro stavolta e la seconda sempre a rilievo nel retro ok ora lavoriamo le nostre cinque maglie alte una cinque per me voi potreste averne di più quindi lavorate le vostre maglie alte che vi separano dalla treccia successiva allora ho dovuto fare un filo di giunzione perché avevo finito il filato e non mi ero accorta quindi tre quattro e uno cinque dopodiché andate a lavorare nuovamente le vostre due maglie a rilievo prendendole da dietro una guardate sempre qual è la prima quindi una e una due poi lavoriamo le nostre tre maglie alte una due e tre e poi lavoriamo altre due maglie alte a rilievo sempre prendendole da dietro poi lavoro le mie maglie alte per arrivare alla treccia successiva e arrivata la treccia successiva faccio la stessa cosa quindi vado a lavorare le mie due maglie alte in costa prendendole da dietro una due poi lavoro le mie tre maglie alte normalmente quindi una due e una tre e poi vado a prendere di nuovo le ultime due maglie alte in costa una e due dopo di che lavoro le mie maglie alte per arrivare alla fine del giro e questa volta arrivo fino in fondo perché io aumenti non ne faccio più quindi vado a lavorare anche l'ultima maglia nella catenella nella catenella che ho realizzato ok due quattro sei ora mi alzo con due catenelle volto il mio lavoro e in questo giro che è l'ultimo giro di trecce che andiamo a realizzare noi lavoriamo normalmente quindi lavoriamo le nostre maglie alte fino ad arrivare alla treccia in rilievo dopodiché lavoriamo normalmente le due maglie in costa davanti uno due le tre maglie alte normali una due e tre dopodiché di nuovo le maglie alte in costa davanti una e una due e andiamo avanti così per tutto il nostro giro fino ad arrivare dall'altra parte dove lavoreremo le stesse maglie alte che abbiamo lavorato nel giro sopra e ci vediamo alla fine grazie a tutti